Ciao a tutti amici e amiche del Senato del Leone, bentrovati in mia compagnia, andiamo a conoscere le vostre previsioni rosco per il mese di settembre 2022, grazie di cuore per seguirmi sempre, se vi va iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra, vi lascio qui sotto tutto comunque nel box informazioni. Incominciamo con indagare le energie per questo mese. Abbiamo la carta doti comunicative, carta 42, poi il 4 di spade, la luna, carta 18 collegata all'arcangelo Hanyel, poi questa carta che andò a leggervi tra poco, e nella sfera delle finanze mancata concessione di un prestito o di un mutuo. Quindi partiamo subito dall'argomentare questa ultima carta. Qui potrebbero esserci delle lungaggini oppure dei ritardi se per caso avete chiesto alla vostra banca o un altro istituto un prestito oppure un mutuo. Quindi qui la carta mi dice proprio secca, mancata concessione di questo mutuo, di questo prestito o potrebbe essere anche un finanziamento. Qui è importante, come dice questa carta, guardarsi allo specchio e pronunciare questa frase. Ho fatto tutto il possibile. Vi siete comunque armati di sacrosanta pazienza, vi siete armati di tanto impegno, ok? Siete stati comunque responsabili e anche molto partecipativi. Però in alcuni casi la vita vi pone di fronte a un muro. Voi avete fatto, avete tentato, ok? Non ce l'avete fatta almeno per adesso, adesso basta. Lasciate un attimino scorrere il tempo e poi riproverete quando magari sarà il momento più giusto, il momento opportuno. Ok? Ora, qui sicuramente durante questo mese avrete molte doti comunicative, parlerete, vi esprimerete al meglio con le altre persone. L'unica cosa che durante questo mese vi avverto un po' apatici, vi avverto un po' passivi, siete un po' stanchi. Magari nonostante qualcuno ha già fatto le fere magari a luglio o agosto, però vi avverto ancora stanchi. Dovete recuperare le forze. Vi sentite anche sovraccaricati dal peso delle responsabilità. Avete comunque tanti pensieri per la testa, ma dovete cercare di sforzarvi a lasciare queste negatività e pensare positivo. Il fatto di tenervi tutto dentro non vi aiuterà a buttare fuori anche questa rabbia repressa, questa ira repressa. È importante quindi comunicare agli altri quello che vi sta più a cuore e quello che realmente pensate di un rapporto, di una persona, di una questione. dirlo agli altri o a chi do dovere e questo è importante perché vi fa proprio scaricare anche le tensioni, scaricare anche le angosce che avete dentro, ok? Quindi sarà un mese un po' diciamo statico in cui dovete anche riprendervi da qualcosa che è successo durante le settimane o i mesi precedenti. La carta centrale è la carta della luna, quindi qua potrebbe esserci qualcosa di nascosto, di poco chiaro da puntista di rapporti interpersonali sia in amore sia in amicizia che da puntista familiare o di vita professionale. La luna è diciamo legata alla sensibilità, è legata anche alle paure. Quindi è importante cercare proprio di liberarvi dalle paure che vi bloccano. Potreste avere anche delle importanti rivelazioni intuitive, quindi fate leva sulla vostra sensibilità, sul vostro intuito e capirete anche qualcosa di sotteso, qualcosa che magari durante i mesi precedenti non era così particolarmente chiaro, particolarmente cristallino, ok? Ma adesso magari pian pianino riuscirete, grazie anche al vostro intuito, a capire come stanno le cose. Attenzione perché la luna è qualcosa di, ripeto, nascosto. Qualche persona che sta giocando anche alle vostre spalle, si sta prendendo gioco di voi. Quindi durante questo mese aprite gli occhi, anche se di aprire gli occhi non è che ne avrete molta voglia, perché avete bisogno di dormire anche più del dovuto. Mi raccomando, parlate, parlate, parlate. Solo così riuscirete anche a risolvere qualche piccolo contrattempo, ok? Quindi è un mese, diciamo, non così eclatante, nulla di che, ricordatevi questa nota un po' negativa per quanto riguarda la sfera finanziaria, però ricordatevi che avete fatto tutto il possibile, fatevi duttare dall'olio senza di lavanta per tranquillizzarvi, per rilassarvi e rassalinarvi, vedrete che poi il mese di settembre poi però scorrerà abbastanza bene. Qua non ci sono novità di sviluppo, novità di, non so, cambiamento. È un mese un po', diciamo, di transizione, un mese transitorio, ok? Però mi raccomando, fate riferimento a questa carta, perché poi la prima carta è uscita, dovete parlare, non dovete lì stare zitti e immobili. Anche se però per molti di voi sarà molto difficile, perché c'è questo, 4 di spade. Ok? Benissimo cari amici, vi aspetto sempre qui sul Taroman. Ciao a tutte, alla prossima!